Buon sabato del convento a tutti, buon pomeriggio, bentrovati insieme, nuova puntata del nostro settimanale. Do il benvenuto ormai ad un amico della nostra emittente, Don Salvatore Miscio. Buon pomeriggio, buon sabato del convento, Don Salvatore. Grazie Paola, grazie, bentrovati a tutti. Allora, Don Salvatore, io mi sposto, è un sacerdote appunto dell'Arcidiocesi di Manfredonia, vi este San Giovanni Rotondo, insegni ecclesiologia, sei parroco della Sagra Famiglia Manfredonia, sei vicario episcopale per la pastorale appunto della nostra diocesi e oggi sei qui in veste di scrittore, che è una veste insomma che indossi spesso oserei dire, perché oggi parliamo del tuo ultimo lavoro intitolato Perché mi cerchi esercizi di ascolto nel Vangelo di Luca Ave Edizioni. Allora, Don Salvatore, un libro che raccoglie più domande che risposte, che è più una bussola che una mappa, è così? Sì, il desiderio che ha spinto un po' la scrittura di questo libro è proprio il desiderio di condividere le domande, una fede che non si preoccupa frettolosamente di confezionare risposte, ma di raccogliere, accogliere le domande. Ma non di accogliere le domande così in maniera disorientante, al contrario, perché le domande nascono proprio dal dialogo, è il dialogo con la parola di Dio. Infatti il sottotitolo dice esercizi di ascolto nel Vangelo di Luca. Sono alcuni brani del Vangelo di Luca che io riprendo, medito, dai quali brani mi lascio provocare e tiro fuori delle domande, delle domande che ne suscitano altre, così mi rendo conto che le domande, invece che essere anestetizzate dalle risposte, crescono ancora di più. Perché mi cercate? Questa è la domanda da cui parte il tuo percorso meditativo, Don Salvatore. E' la domanda che Gesù pone ai suoi genitori, dopo che per tre giorni lo cercano a Gerusalemme, il famoso brano che chiude il secondo capitolo di Luca, che insomma meditiamo anche nel Rosario, come lo smarrimento di Gesù nel Tempio, poi il ritrovamento di Gesù nel Tempio. E quando finalmente Maria e Giuseppe lo trovano, Gesù dice perché mi cercavate? Quasi come se fosse strano che dei genitori cerchino il proprio figlio adolescente, dopo averlo smarrito per tre giorni. Ma la domanda in verità è più profonda, evidentemente è come un tentativo di aiutare i propri genitori a prendere consapevolezza di qual è il vero motivo della ricerca. Dice perché cercate vostro figlio? Per acquietare magari le vostre paure, i vostri rimorsi di genitori. E che diventa quasi la domanda perché cercate Dio? Perché è colui che appunto è la risposta acquietante a tutte le inquietudini, oppure quell'anestetico per ogni tipo di dolore, no? Perché lo cercate? Perché dice Gesù io in verità sappiate che sto cercando il Padre per fare le sue opere, per occuparmi delle cose del Padre mio. Esco un po' dal seminato, dalla scaletta che ho preparato delle domande. C'è stato un momento storico secondo te in cui abbiamo cercato di più il Signore? Penso al periodo della pandemia, del lockdown. Forse in quel momento lo abbiamo cercato di più? Sì, sicuramente lo abbiamo cercato di più e abbiamo imparato ad ascoltare e ad accogliere il suo silenzio. In questo momento mi viene in mente, Paola, la scena di Piazza San Pietro vuota, con Papa Francesco che sta lì a dare voce a un'umanità senza voce, ma al tempo stesso a dare voce a un Dio senza voce, no? Per cui questo silenzio, la sua preghiera, è quella paura raccontata commentando la tempesta sedata, no? E soprattutto quel dire non ci possiamo salvare da soli, no? Esatto. Molto bello, che non è un dire Dio c'ha le soluzioni, no? Ma è dire mettiamoci insieme, anche insieme nella ricerca, anche insieme nel condividere le paure, le domande, le inquietudini e soprattutto la nostra piccolezza, di fronte a qualcosa di così grande, allora ancora meno conosciuto come era la pandemia da Covid-19. Esercizio numero uno, Don Salvatore, da praticare l'ascolto. Non è facile. Sì, è l'esercizio che ci viene consegnato per questo sinodo, no? Esatto. Non a caso, diciamo, sia i Vescovi italiani, adesso anche ho visto il sinodo universale, si sta concentrando molto sull'ascolto, che non è un esercizio previo per sondare il mercato, una sorta di indagine da marketing. Al contrario, è l'esercizio di base. L'ascolto è la condizione essenziale perché possiamo accoglierci, perché possiamo accorgerci gli uni degli altri e perché possiamo davvero condividere qualcosa di grande, anche qualora quello che ci racconteremo, che ci diremo o le soluzioni che indicheremo potrebbero anche non essere condivise, ma l'ascolto dirà innanzitutto che ci saremmo voluti davvero bene. Ascolto che poi è diverso da sentire. Io in questo momento ti sto ascoltando, non sto sentendo le tue parole, quindi molto riguarda anche chi sta dall'altra parte, chi recepisce quello che stiamo ascoltando. Sì, perché sentire significa che io ti sto concedendo il tempo di dare la tua risposta, ma io ho già in mente qualcos'altro. Invece tu Paola mi stai ascoltando e lo capisco dal fatto che prendi appunti mentre parlo. È un segnale per dire... Una cosa bella che Papa Francesco precisa spesso è che non dobbiamo soltanto ascoltare in questo periodo, ma dobbiamo fare in modo che l'altro prenda parola. Cioè non dobbiamo solo essere disponibili ad ascoltare, ma dobbiamo fare di tutto perché l'altro si senta nelle condizioni di poter prendere parola. Su questo prendere la parola ci ritorneremo, anche perché tu sei a stretto contatto con i giovani, col mondo della scuola, della pastorale giovanile, quindi poi vorrei farti una domanda su questo e sul momento che stiamo vivendo in cui ci sono tanti social, forse anche troppi, tanti mezzi per comunicare ed è difficile dare la parola al prossimo. Ma ne torneremo dopo su questo argomento. Don Salvatore, tu suggerisci una metodologia per la lettura di questo libro. Quale? E perché soprattutto? Esatto, sì. Allora, io fisicamente nel libro c'è il brano del Vangelo, su quale poi io torno commentando, ma prima di arrivare al mio commento c'è una paginetta dedicata alle domande. E io suggerisco di leggere il brano del Vangelo, quindi accogliere questa scrittura che poi può diventare nella preghiera quelle parole che Dio usa per parlarci. Poi c'è la paginetta delle domande, quindi fare proprie quelle domande o lasciare che quelle domande provochino nel lettore altre domande o vadano a cogliere qualche inquietudine che già risiede o vada a svegliare anche, no? Un approccio un po' più critico a quello che si vive sempre, quotidianamente. E poi suggerisco di non passare subito al mio commento, ma di tornare a rileggere la pagina del Vangelo. Perché la pagina del Vangelo, ascoltata con un'attenzione attivata dalle domande, è fondamentale, non solo per leggere in maniera ancora più attenta il Vangelo, ma anche perché è l'esercizio che la vita stessa suggerisce. Ognuno di noi, quando legge la pagina di un libro, quando riceve la parola, la scrittura, la riceve sempre filtrandola attraverso le domande che si porta nel cuore. Ecco perché la stessa pagina, ascoltata più volte, può sembrare addirittura una pagina diversa. A proposito delle domande, appunto, che in qualche modo aiutano la riflessione personale, come tu stesso hai detto, quanto l'essere parroco, quanto stare in mezzo alla gente, ti ha aiutato a scrivere questo libro? Quasi al 100%, perché anch'io, ovviamente, quando ascolto la scrittura, la medito, la ricevo, provo in qualche maniera a riconsegnarla agli altri, questa scrittura passa attraverso il filtro della mia esistenza, che è un'esistenza a sua volta veramente impastata degli incontri. Infatti, nella premessa, io chiarisco che non sono un biblista, quindi nessuno leggendo il libro si aspetterà delle note di esegesi biblica competenti, assolutamente. Però è anche vero che quello che scrivo è veramente il frutto dei tanti lavori di bravi biblisti che io ho letto, studiato, ho avuto il piacere di citare tra i testi anche che è il testo del nostro provinciale di Fra Maurizio Placentino che ha fatto proprio un lavoro sul Vangelo di Luca e proprio su quei primi capitoli del Vangelo di Luca. E soprattutto dico che veramente quello che io scrivo alla fine, quello che io propongo agli altri, è veramente la rielaborazione creativa, personale, ma pur sempre ricca di tutti gli incontri che io vivo e quindi da parroco, da confessore, insieme con gli altri sacerdoti, con tutti coloro che lavoriamo anche adesso nell'esperienza sinodale. Quindi tutto è dentro questo grande mix che poi esprimo magari attraverso le parole. Quanto la scrittura, con la S maiuscola, naturalmente ci aiuta ad ascoltare Dio e i fratelli? Beh, la scrittura è uno strumento eccezionale che Dio utilizza e che la Chiesa da sempre ha valorizzato, perché la scrittura intanto è il racconto di esperienze di fede, di esperienze di Dio. Quindi la scrittura è già una restituzione, una narrazione che porta dentro l'esperienza che altri uomini, altre donne hanno fatto di Dio. E in qualche maniera raccoglie quanto Dio nel tempo ha fatto conoscere di sé agli uomini. Quindi qualcosa di prezioso che resterà sempre e tornerà sempre prezioso. Però diventa soprattutto quello strumento vivo che di volta in volta sotto l'azione dello Spirito Santo permette a Dio di parlare al cuore dell'uomo e permette all'uomo di rispondere a Dio e di rispondere ai fratelli sintonizzandosi col Signore, perché la scrittura ci permette anche un facile ritorno a sintonizzarsi con Lui. Sintonizzarsi a cui collego un'altra parola che è la radio mi viene in mente un'altra parola che è una tua grande passione però noi ci fermiamo qualche istante perché è presente anche un'altra tua grande passione tra le pagine di questo libro non lo svegliamo ai nostri amici telespettatori ci fermiamo brevissima pausa e poi ancora insieme Don Salvatore Miscio al sabato del convento. E se vi siete sintonizzati solo in questo istante sul canale 145 siete su Padre Pio TV a quest'ora c'è il sabato del convento come ogni sabato e allora oggi ospite nei nostri studi Don Salvatore Miscio che ci ha portato il suo ultimo lavoro perché mi cerchi esercizi di ascolto nel Vangelo di Luca dicevo prima della pausa pubblicitaria Don Salvatore tra queste pagine è presente anche una tua altra grande passione che è la musica come l'hai inserita? Non potendone fare a meno ho scelto insieme con la casa editrice di mettere quasi a introduzione quasi per sintonizzare un po' il lettore con il capitolo che poi avrebbe letto così una citazione di una canzone inizialmente devo dire la verità avevo messo tutte citazioni di Fabrizio De Andrè poi in verità per cominciare un po' a variare perché mi hanno suggerito anche magari di variare un po' ho messo un po' citazioni di vari cantautori alcune di quali sono canzoni che in questo momento sono dei single lanciatissimi e ascoltati molto assolutamente va bene mi viene in mente Cesare Cremonini ci sono anche Ipuce Madame insomma comunque è stata una scelta varia Fabrizio De Andrè allora Don queste domande me le stai tirando una dietro l'altra un'altra tua grande passione questo non è il primo libro che scrivi ce ne sono altre due precedenti a questo giusto? Sì il primo libro nel 2016 fu proprio quello dedicato a Fabrizio De Andrè Dio del cielo vienimi a cercare Faber l'uomo in ricerca anche qui il tema della ricerca che torna il tema delle domande le domande quella volta ascoltate attraverso le parole la testimonianza di un cantautore che oltre ad essere un grande poeta era comunque uno che approcciava anche la questione della fede della religione da tutt'altro punto di vista quindi era veramente un esercizio di ascolto di chi utilizzava altre prospettive sempre per cercare però la stessa cosa cioè la verità la vita e inevitabilmente quindi quelle domande vere e tra queste fa capolino la domanda di Dio mentre all'inizio di questo anno nel 2022 ho pubblicato un testo sulla chiesa sinodale per una chiesa sinodale mai senza i giovani dove intendo come esercizio principale per una chiesa che vuole rinnovarsi per diventare sempre più sinodale più missionaria proprio l'ascolto anche qui la parola ascolto torna importante ma l'ascolto delle nuove generazioni dei giovani che ci aiutano a comprendere un po' meglio questo tempo che viviamo e anche quella è una postura che Gesù stesso chiede nel Vangelo cioè chi non diventa piccolo bambino e anche giovane dice il testo di Luca Neon non può cogliere in pienezza la proposta del Regno dei Ceni prima Don Salvatore a proposito della parola ascolto che in questa nostra chiacchierata è comparsa spesso citavi anche Papa Francesco che diceva anche l'importanza di dare la parola quindi non solo l'ascolto ma anche dare all'altro la possibilità di intervenire aiutami di mettere mettere l'altro nelle condizioni di prendere la parola esatto ma oggi con tutti i social con i quali ci troviamo ad avere a che fare con numerosi mezzi di comunicazione così come si chiamavano anche negli anni 90 è possibile mettere l'altro nelle condizioni di prenderla questa parola allora tecnicamente in verità tutti possono prendere parola grazie ai social il problema è quanto questa parola risulta importante significativa perché ovviamente un po' per un utilizzo massivo un po' perché sui social puoi dire qualcosa e non per forza entrare in un reale dibattito confronto questo porta alla banalizzazione della parola la banalizzazione della comunicazione quindi una comunicazione che quantitativamente è cresciuta in maniera esponenziale però qualitativamente probabilmente rischia di perdere molto voglio concludere tra le righe della conclusione ti poni e ci poni una domanda con quale atteggiamento ascolto Dio e gli altri beh sì in fondo il libro cerca di accompagnarci un po' verso questo grande quesito perché tutto sta proprio nell'ascolto che dico io è accompagnato anche dallo sguardo cioè lo sguardo è condizionato dall'ascolto se io ho realmente intenzione di ascoltarti ti accolgo con uno sguardo compiacente accogliente ed è veramente desideroso di ascoltarti e soprattutto tu percepisci tu che mi parli percepisci dal mio sguardo che tu sei importante per me questo vale molto di più di qualsiasi tipo di ascolto tra virgolette per cui chi parla chi prende parola lo fa anche volentieri lo fa anche rilassato sereno e dice magari in maniera schietta quello che davvero sente nel cuore Don Salvatore ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi in questo sabato per averci parlato del tuo ultimo libro ma che poi ci ha dato anche la possibilità di allargarci nel discorso è sempre un piacere chiacchierare con te ricordo ancora una volta ma lo avete visto anche inquadrato nel nostro led la copertina del libro di Don Salvatore Miscio Ave edizioni perché mi cerchi esercizi di ascolto nel Vangelo di Luca grazie per essere stato con noi al prossimo libro ma non aspettiamo che tu scrivi il prossimo libro quando vuoi le nostre porte siamo sempre sintonizzati ecco grazie Paola grazie Don Salvatore